Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di aspirapolveri da auto. Tutti noi ci teniamo a tenere pulita la nostra macchina e avere un aspirapolvere da auto può essere veramente una buona idea. Ma oggi non voglio parlare di uno specifico aspirapolvere da auto, benché io vi farò vedere quello che mi è stato regalato. Innanzitutto ringrazio il mio amico Luciano, grazie Luciano e lo saluto per questo aspirapolvere. Ma vorremmo partire da questo per capire quali sono i pregi e difetti dei vari modelli che troviamo sul mercato e quale potrebbe essere una scelta corretta, una scelta buona per la nostra auto. Quindi partiamo da questo, dalla Black & Decker, il modello vi comparirà in questo momento da qualche parte e da questo ci basiamo per capire quale aspirapolvere è meglio comprare e quale no. Detto questo io non voglio chiedervi oltre perché vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti. Bene signori, vi faccio vedere l'unboxing di questo aspirapolvere giusto per farvi notare subito il problema in cui mi sono trovato davanti, subito appena l'ho aperto. Come potete vedere, questo aspirapolvere ha un cavo. È alimentato tramite cavo e questo cavo finisce con una presa. Accendi sigari. Qual è il problema della presa accendi sigari? Che nelle macchine moderne l'accendi sigari non è alimentato quando la macchina è spenta. Oppure viene alimentato per un minuto, due minuti e poi l'alimentazione viene staccata. Ora, questo è un problema perché vuol dire che io o uso l'aspirapolvere quando la macchina è accesa oppure non posso utilizzarlo. Utilizzare l'aspirapolvere con la macchina accesa, a mio avviso, non ha assolutamente alcun senso, sia per un consumo di carburante che per il fatto che mi devo mettere a pulire la macchina con la macchina accesa, cioè non ha proprio senso. Quindi questo è un problema che va risolto. Io l'ho risolto utilizzando l'accessorio accendi sigari che ho trovato dentro il mio booster. Booster di cui ho fatto la recensione qualche tempo fa. Come sapete, i booster per auto non sono altro che delle grandi power bank con un accessorio che serve per dare lo spunto alla batteria. Sono dotati di molti accessori, tra cui anche l'accessorio accendi sigari. Ora, io ho collegato la batteria, come state vedendo nelle immagini, all'aspirapolvere e mi sono messo ad aspirare. Con questa soluzione l'aspirapolvere funziona, anzi funziona anche molto bene, devo dire. Sinceramente ha aspirato tutto, poi c'è anche l'accessorio con le setole che aiuta a rimuovere lo sporco anche dai tappetini, sia quelli in gomma che quelli in stoffa. E ha rimosso della roba, ha rimosso, ha rimosso un bel po'. Però questo è un grosso problema, il fatto che io devo collegarlo ad una batteria. Non tutti possiedono un booster e di sicuro non compro una batteria apposta per far funzionare l'aspirapolvere d'auto. Quindi, cari signori, a mio avviso questo modello non va assolutamente bene per la nostra macchina. Dobbiamo andare a cercare un modello che abbia la batteria. Quindi facciamo una cosa, andiamoci su Amazon e cerchiamo aspirapolvere d'auto. Polvere da auto, batteria. Perché è questo che ci serve. Come vedete, ci sono un sacco di aspirapolveri che possiamo scegliere. Ce n'è veramente una quantità pazzesca. E anche di tutti i prezzi, chiaramente. Dobbiamo guardare i PA, che sono i Pascal, quindi la potenza dell'aspirapolvere. Più è alto il PA e più aspirerà. Ovviamente poi dobbiamo cercare il modello che ci piace di più. Ci sono modelli fatti come questo, quindi che hanno questa forma qui, che magari sono belli, ma non stanno all'interno di qualche vano all'interno della nostra macchina. Ci sono questi che sono molto 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 piccoli e quindi che possiamo tenere tranquillamente dentro il portaoggetti che secondo me sono la soluzione migliore. Come vedete questi hanno un semplice cavo USB che possiamo caricare direttamente in macchina. La batteria fa il prezzo. Questa batteria è abbastanza piccola, 2000 mAh, 25 minuti. Ma 25 minuti per aspirare la macchina sono più che sufficienti. Comunque possiamo andare a sceglierci il modello che ci piace di più. Io magari in descrizione vi lascerò alcuni link, però il concetto è che, alcuni link per fasce di prezzo, il concetto è che se vogliamo un aspirapolvere d'auto, un aspetto fondamentale è che deve essere per forza a batteria. Perché se ha il cavo nelle macchine moderne facciamo veramente molta 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 fatica. Tra l'altro questo modello qui che io ho preso a caso ha 18.000 Pascal, che è veramente tantissimo, è piccolissima. Il filtro è anche lavabile nell'acqua, quindi direi che già questo modello io ve lo consiglierò di sicuro perché è veramente uno spettacolo, si vede da qui e il costo non è neanche eccessivo. Per onor di cronaca vi devo dire che esiste anche il modello dell'aspirapolvere da auto della Black & Decker, vediamo se l'avevo già cercato, a batteria. Allora questo qua è il modello nuovo della mia aspirapolvere, esiste anche a batteria. Se lo cercate su Intel lo trovate, il concetto è che però, magari adesso ve lo mostro anche, è veramente molto molto caro quello della Black & Decker. Però vedete voi, in base anche alle vostre tasche, cosa volete fare. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, o spero soprattutto che vi sia stato utile. Se avete qualche domanda da fare, ovviamente scrivetemela qui sotto nei commenti, così da insieme cercare di venire un po' fuori per trovare il modello migliore di aspirapolvere da auto. Raccontatemi la vostra esperienza e vediamo cosa ne viene fuori. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.